Un concorso a tema definito, con cadenza biennale e declinazione plurale, la Convenzione di Istanbul, contest internazionale a tema per short film, indetto come attività a sezione esterna al Trani Film Festival 2023-2024, con il patrocinio del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Il contest ha la sua dimensione dal punto di vista di struttura proprio per cercare di dare uno spazio ai cortometraggi nell'ambito della distribuzione cinematografica, infatti i migliori saranno il corpo di un unico film. Gli autori potranno iscriversi scaricando il bando, poi successivamente, in successivi step, verranno presentati sia i vincitori e poi serate o programmazioni nei cinema del prodotto finito. Tema del contest, la Convenzione di Istanbul appunto, a dieci anni dalla ratifica italiana di un trattato internazionale fondamentale nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La Convenzione di Istanbul parla di violazioni di diritti umani, parla di violenza di genere, violenza sulle donne, discriminazione. Noi ovviamente come Comitato Pari Opportunità abbiamo ritenuto di dover dare il patrocino a questo progetto perché utilizza uno strumento molto forte. L'esito finale sicuramente potrà essere utile per noi per sensibilizzare, per educare e per prevenire, che secondo me sono le tre parole chiave. Il cinema dunque come veicolo mainstream per accendere un riflettore sui diritti. Ci auguriamo che questo target costringa un po' gli autori a farlo, a fare il proprio dovere, anche in prospettiva di poter inserire i corti che non hanno mai avuto una vera e propria circuitazione in Italia dentro la dimensione un po' obbligatoria del lungometraggio.